Perché avete deciso di partecipare a questo evento? Abbiamo deciso di partecipare a questo evento perché credo che fare network sia ormai diventata il must per tutti i produttori. Quindi condividete anche questa idea di Milestone, di mettervi in connessione tra di voi? Sì, assolutamente sì, anche perché è una piattaforma ormai worldwide, per cui non si può esimere, vedete che ci sono anche altri grossi marchi come Pelco, non ci si può esimere da non essere presenti in questi tipi di eventi. Il valore aggiunto che avete riscontrato nell'essere partner di Milestone? Sicuramente è una visibilità worldwide, anche perché noi siamo una small company italiana. Ecco, che cosa distingue il vostro prodotto rispetto agli altri partner? Noi ci siamo focalizzati sulla produzione di telecamere, ma non tradizionali PIA o megapixel, ma su telecamere che hanno molta intelligenza a bordo e soprattutto per mercati molto verticali. Quindi produciamo telecamere di lettura delle targhe, di profilazione dei volti che leggono i tightness e sesso per il settore retail, telecamere di analisi del traffico, telecamere antirapina. Ecco, proprio il discorso della profilazione dei volti, magari è molto delicato per quello che riguarda soprattutto la privacy. Sì, in effetti è stata una questione importante da affrontare nello sviluppo di questo prodotto, perché il garante non voleva assolutamente che si facesse dell'estrapolazione di dati biometrici su base PC. Quindi l'intelligenza a bordo della telecamera è quello che ha risolto il problema della privacy. Questi sono aspetti che sono applicabili a quali mondi, a quali aree, diciamo? Beh, viene utilizzata soprattutto o nel digital signage o nel fare la pubblicità contestuale, quindi entro una donna si fa la pubblicità femminile piuttosto che un uomo o un bambino, oppure nella raccolta dei dati di marketing, quindi io so che in una certa area le persone presenti sono in percentuale X donne di sesso e di età. Molto spesso sono utilizzati anche nei manichini per vedere quanto tempo la persona sta davanti al manichino, quindi guarda la vetrina, se la vetrina è gradevole oppure no. Grazie.